Italia bella mostra di gentile e i figli tuoi non li abbandonare se non ne vanno tutti in Brasile e non si ricordano più di ritornare ancora qua ci sarebbe da lavorare senza stare in America emigrata il secolo presente qui ci lascia in 1900 s'applicina la fame ci han dipinto sulla faccia e beguarilla uccella medicina ogni po' noi si sente dire oh la do bella racconta del caffè non ci rimane più che preghi e frati monicche di convento e cappuccini e certi commercianti disperati di tasse non conoscano confini verrà un dì che anche loro dovranno partire la do bella raccolta del caffè ragazze che cercavano marito vedranno partire il loro fidanzato vedranno partire il loro fidanzato e loro restano qui coessor curato verrà un dì che anche loro dovranno partire la do bella raccolta del caffè l'operaio non lavora c'è la fame e lo divora e qui i braccianti non sa come si fa ad andare avanti spereremo il novecento finirà questo tormento ma questo è il guaio il peggio tocca sempre all'operaio il secolo presente qui ci lascia il millenovecento sta vicina la fame ci ha dipinto sulla faccia e che guarì l'uncella medicina l'Italia bella mostra di gentile e i figli tuoi non li abbandonare se non ne vanno tutti in Brasile e non si ricordano più di ritornare ancora qua ci sarebbe la lavora senza stare in America e migrare il secolo presente qui ci lascia il millenovecento sta vicina la fame ci ha dipinto sulla faccia e beguarì l'uncella medicina ogni po' noi si sente dire oh là dov'è la raccolta del caffè non ci rimane più che preghi e frati moniche di convento e cappuccini e certi commercianti disperati di tasse non conoscano confini verrà un lì che anche loro dovranno partire là dov'è la raccolta del caffè ragazze che cercavano marito verrà un lì per partire il loro fidanzato verrà un lì per partire il loro fidanzato e loro restano qui coessor curato verrà un lì che anche loro dovranno partire là dov'è la raccolta del caffè l'operaio non lavora c'è la fame e lo divora e qui i braccianti non sa come si fa ad andare avanti spereremo in novecento finirà